Mi sono rotto altamente i coglioni Mi diranno con questo Ah si fa il Lord, si GL quando tankerai il primo boss contro un ACL? Ah lo stannato? Ah figurati Allora proprio ci giro pure stannato Easy easy Di new force Ah no, questo è buonissimo sui green E il primo morto l'abbiamo fatto Il prossimo è tien Mi che tiene essere Mamma mia l'altro Tutto il primordialista E sbie Sì 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 Arriverà a valori difensivi infiniti Prezzo, il boss finale quanti la vita c'errà? 5, 6 milioni? 10? Allora, giro di settiera che tank ancora è un buon presagio 100.000 di divisa, ottimo Palletto Andate di special Vabbè, Tien, vaffanculo Stuk E' esploso, Tien Ok, c'ho la donnazione Quanto c'ha ck adesso? 200.000 Io ho detto di fare un paio di altri di special Brava Attenzione, muta e ci pusha Vai vai, bustatevi sta difesa Ma deve essere abbastanza easy Tieni Voli Ok, che fa l'abominio Guarda che stacca la difesa Metto lui per staccare ancora la difesa Giro per shoot up E poi giro nel sentiere qui per ride Tien, proprio non serve un cazzo Come leader Una di special Me la potete fare Gentilissimi Colpo del giro Il furioso E anche Muten vola via Siamo a due One shot di gire Trasco 300.000 di difesa Col buffer in turno Nice Nice ck Nice Ck e fate Mentre invece contro L'evento degli dei Non ne vale mai Brava ck Mi fa piacere Ikio è quasi tutta resist death Pure sta caldita tech Resist death Non serve ad inizio Perché vale tutto Però Capiamoci Mi serviva per la fase finale Che non Le evasioni non ci sono Cioè non si può evare Grande lord topo 150 Nice C'ha pure a recovery Sto piccolo unfano Per lui solo banane Con 300 cappi di difesa Dovrei tankare la fase finale Dammi lì Ah finalmente gira e prende dei colpi Questo fa un po' male Ma non mi ripetano Ma non mi ripetano Fai che il Abominio Spaccali tutti Bravo 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 Mazzes pure traghetto Per ride questo Quando ti vede se c'è adesso 300 Caldita tech Riesco a boffare caldita tech E' un po' male Troppo vado Indoccano con Ghiren Ghiren Piccolo annullo Le evasion No Perché l'ho rifrappeso A tank Già annullano le evasion Quindi tutte le evasion Di prima Non mi vede No Solo con guzza finale C'è il disable evasion Fuck Non è debuffabile 18 in difesa Nazione Sare Volevo che c'è per Diokan Ma come è piccolo Il tournament of power E' una scammata Nelle Com'è? Nello stage qua Nell'ista di tournament of power Non è tournament of power Quello lo so che il piccolo E' quello di champa E' del torneo di champa No Però è una scammata Potevano essere molti di più Se l'avversario Gli potrebbe debuffare qualcosa Però Scam Non lo mettete proprio Mettetevi un freezer Non è che c'è freezer Non c'è manco un freezer Mi mettete un freezer Che è meglio Invece di piccolo Che non è torneo Il tournament of power Beh Anzi Pure avessi preso Una scammata E' un califero E' morto E' partita così Con ultimate Debuffabile in difesa Ah no Scambo Ah proprio prima special Proprio Grazie Gentissimo Chi ma il freezer Mi piace di dopo Sta con Go E' una scammata pure quella Ma il ghiren Davo ghiren Si Marco Ma prima infatti Ghaulifr Infatti Ghaulifr Mi ha invaso La special Con la prova Passiva Proprio Ma Due attacchi Subite Due evasioni Ho detto Vabbè Evade Normalmente E invece Scambo Califero con Go Kuzza Evade No Go Kuzza Evade Cioè Annula l'evasione Perciò sto cercando Di bustarmi La difesa E con il libro Quanto più possibile E' un'evasione E' un'evasione Non c'entra Non c'entra Né passiva Né abiliti Niente Non puoi Vabbè Però un crypt Come potete dire E' scammer Si è come muine Le lg Azz No la Il full power Di Jiren E' troppo presto Facciamo Come nell'anime Alla fine Il Jiren Contro Go Kuzza Brava Brava Fate più Hard Di special Possibili Ho nessun boss Più c'è la debaffa La difesa Ma no L'ultimo era Piccolo Vegeta Vegeta Puoi vaper gli attacchi Da Come ho detto Giusto E mi fai una special Su Jiren Sono Cassi miei Sì Chissà E La Quando hai Wiren LR Che è la fusione Tra Jiren E Goku Ui Ui e ne... Brava cavolino, a meno 300k di difesa dobbiamo raggiungere Davoputo VEGETE NO SCAMMA VEGETE NO SCAMMA VEGETE NO SCAMMA Bravo VEGETE, bravo, bravo guaglione Ah, dopo... Battaglia canonica, top contro VEGETE Aia Eccolo Cazzo, l'attiva adesso Se devo fare esplodere VEGETE Porco chute, adesso se VEGETE esplode Purtroppo non c'ha difesa debuffabile Se no... Qua i 10 milioni volavano Doppio buffer in due Purtroppo Ciao VEGETE Ah, 7 milioni ho detto Con la difesa debuffare erano 10 milioni e passa qua Ciao VEGETE 6 barre vita, sono andate via 5 barre vita 5 barre vita Sostate abili di full Ci vediamo direttamente nel prossimo universo VEGETE Ok Sì, però Stava scritto che il boss può evadere gli attacchi Ma? Anzi mi faccio paura Meglio che mi sto zitto Il boss va due secondi dopo Vabbè, vedi l'attacchio Uno di vita, scam Ma che era quello uno di vita Ecco, mo lo scam Tarataratata Jinen dovrebbe essere fisico perchè da cazzotto Stuk, 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 stuk Tinio force Ah, è un ki blasto questo Che palle Tin 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 Tinio force Può prendere Un cazzotto a Ghiren Tiene tiene, mangia questo Ma due barre vino Manco critate, bastardo Detto mi serviva abili di full Abili di full Abili di full si scioglieva Un po' Un po' Un po' Un po' bassina È ability free però Ma che è mui mui Che andassi a fancura Boh il CK ho superato pure Un milione di difesa Per dire La 12D è Sono pugni Di CK Yes Con l'Aza gli danno a muta il 1000% D'attacco Non so se scansi pure Ma è inutile tanto Non recupera HP Recuperava HP con le blast Allora vedevo pure Ma possono fare quello che voglio Allora vedevo pure Allora vedevo pure Allora vedevo pure Ah si Boom Scam No ma sto cavolo di genere Abili di uno Non fa un cazzo di altri special Crit Probabilmente scam Final boss Che è sta musichetta Ma? 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 Quanto prende? Girena pugni Agire 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 Mi fido Mi fido Voglio Ero Quanto abbiamo Quanto è 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 90k Ma che stiamo in una road Ma che stiamo in una road Che vento di merda So nemmeno se ci arrivo in dock Yes Vai Jiren fagli vedere chi è il più forte Chi doveva vincere veramente il torneo del potere Sti scammers Dai fagli vedere chi c'è il braccio più grosso Chi si è fatto di steroidi e chi no Un braccio di quello è Quanto me praticamente Stuk stuk Guarda là che banda di rincoglioni Toppo Prego Quanto fa? 100k? Non so se è la riduzione della difesa Forse Che vento di merda Insomma Mi sono un po' cagato in mano Cacciata? Mi sa che è uccita 180 180 Il turno dopo mi farà special Il turno dopo cazzi miei Allora ho preso 340k da 120k da 120k di def 100k di puro Eeeh insomma Bah c'ho 500k di difesa Non dico niente Ah mi sono rifullato a posto Mi faccio i cazzi miei che è meglio Vediamo Eeeh forse Forse Non dico niente Oh se mi devi fare la special Dopo che ho fatto la special Con i 3 power ranger Non dico niente Eeeh Eeeh Ah Eeeh 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 Mullip Ridiha Demi Eeeh Less Eeeh Prager Eeeh 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 Due barre vita Ok 800.000 di death Noia Quando mi farà? Dai oh Almeno 20k Su via 800k me li butti di death giù Dai Manco Gokuzza riesce a buttare giù un milione di death quasi Ci ha provato almeno 20k Niente Nemmeno Gokuzza riesce a buttare giù una ck Ck fa dove prende il boost dalla passiva E' rottissimo Oh lo finiamo come nell'anime con Giren Giren Il problema è che Giren è stato fatto pure E niente Qui è un po' capovolta la situazione Giren Faglielo vedere Il muscolo Il bicipite Boom Perfect run No item Easy win Troppo semplice questa easily Gg Grazie a tutti Grazie a tutti